A volte può capitare di sentirsi a disagio, anche con se stessi. Sentiamo il bisogno di migliorare la nostra qualità della vita, salire in un gradino che ci appare alto come una montagna. Per risolvere le difficoltà nelle relazioni e da affrontarla al meglio, possiamo essere aiutati da specialisti che possono contribuire al raggiungimento del nostro benessere. Nel mese di ottobre possiamo avvalerci delle consulenze e dei seminari gratuiti organizzati dalla CIPAP Lazio. Cerchiamo di capirne di più in questa intervista alla psicologa dottoressa Diletta Tuseo di Ladispoli. Ci troviamo in compagnia della psicologa, psicoterapeuta, dottoressa Diletta Tuseo, in occasione del Mese del Benessere Psicologico. Dottoressa, di che cosa si tratta? Il Mese del Benessere Psicologico è stato organizzato dalla CIPAP, la società italiana che raccoglie i liberi professionisti psicologi e psicoterapeuti. È giunto quest'anno la sua terza edizione e l'obiettivo è quello di promuovere il benessere psicologico. Che cos'è il benessere psicologico? Intendiamo per benessere psicologico lo stare bene con se stessi e con gli altri, che significa il saper gestire situazioni importanti, situazioni stressanti, il saper prendere gestioni importanti. Importante è anche il informare sul ruolo dello psicologo, quindi chi è, che cosa fa questa figura, e anche informare poi su tutte le figure che ruotano intorno al benessere della psiche. In questa occasione, quindi, e per tutto il mese di ottobre, psicologi e psicoterapeuti apriranno i loro studi, offrendo seminari e consulenze gratuite. Quali sono le tematiche più frequenti? Allora, naturalmente non è possibile fare una lista di problematiche che arrivano più frequentemente in studio. Quello che possiamo dire, statistiche alla mano, è che c'è stato sicuramente un aumento del 5% sulla popolazione nazionale dei disturbi collegati all'ansia, spesso associati a disturbi dell'umore e depressione. E questo cosa significa? Soprattutto la cosa più preoccupante è che l'età si sta abbassando particolarmente. Cioè, oggi arrivano ragazzi di 25 anni con alle spalle frequenti attacchi d'ansia e crisi di panico. L'elemento scatenante è spesso un esame universitario, quindi proprio la difficoltà a sostenere o anche la difficoltà a prendere un treno. Se noi, per esempio, pensiamo anche al nostro contesto, quindi questi giovani che si devono spostare dalla Dispoli per arrivare a Roma, magari per frequentare l'università. E vediamo come la Dispoli ha pochi passi da Roma, quindi ne respira l'odore, ne respira quindi la vita, però i giovani spesso non possono accedervi o non hanno i mezzi con facilità. E questo è naturalmente anche una difficoltà per i giovani d'oggi, per i nostri giovani, che quindi comunque ne risentono particolarmente anche la scarsezza di alternative, che è difficile da gestire. Il sintomo, se noi riprendiamo per esempio l'esempio dell'attacco di panico, della crisi d'ansia, il sintomo diventa allora una risorsa, perché comunque è un segnale che il nostro corpo ci invia per dirci che qualcosa non sta andando nel modo giusto. A questo punto sta a noi cercare di interpretarlo, capirlo e decidere di farsi qualcosa. Il problema però qual è? Che molto spesso, per esempio, la crisi d'ansia si manifesta con tutta una serie di sintomatiche fisiche, che può essere la tachicardia, difficoltà di respirazione. E quindi le persone, prima di arrivare allo psicologo, ultima spiaggia, si sono passate. Il cardiologo, l'opneumologo, quindi tutte queste altre figure. Dottoressa, perché non lo psicologo? Questa è una bella domanda. Semplicemente perché noi preferiamo spesso avere più un disturbo fisico che un disturbo psicologico. Nel senso che andiamo dal medico perché ci fa male la pancia, quindi il medico ci dà questa medicina, noi ce la prendiamo, guariamo e stiamo bene. In tutto questo c'è uno scarso investimento affettivo. Lo psicologo, purtroppo, si porta dietro tutto quello che stereotipi e pregiudizi viene quasi etichettato come il medico dei pazzi. Quindi difficilmente la gente ammetterà di andare a un psicologo. Se voi pensate, è molto più facile dire sono andata dal medico, mi sono girato un sacco di medici, piuttosto che dire semplicemente vado dallo psicologo. E questo perché? Perché comunque dallo psicologo ci si deve fermare. Ci si deve fermare, si deve riflettere, dobbiamo toccare il nostro malessere, il nostro disagio. E la nostra società oggi ci porta ad andare di corsa, ad essere sempre belli, sempre informati, a sapere tutto. Quindi non abbiamo il tempo di poterci fermare, di poterci fermare, guardarci dentro e capire quali sono i nostri problemi. Stavo leggendo, per esempio, una delle ultime mode, quasi, sempre più di frequente. Le giovani spose, le future spose, inseriscono nella lista nozze dei piccoli ritocchi fisici. Allora, senza nulla togliere comunque al discorso che si va verso un miglioramento di se stessi, verso comunque un cercare di stare meglio, stare più bene, stare meglio, insomma. Naturalmente vanno indagate anche le motivazioni che poi ci possono stare dietro, perché non sempre questo rientra in un'ottica solo di benessere. Quali sono quindi gli ambiti di lavoro per lo psicologo? Noi pensiamo allo psicologo come situazione di emergenza. Cioè, dopo che tutti i medici mi hanno detto no, guarda, non si può fare niente, è un problema psicologico, arriviamo quindi dal terapeuta. In realtà lo psicologo lavora in moltissimi altri ambiti. Noi possiamo pensare alla formazione, alla ricerca, alla didattica, al sostegno. E in un'ultima cosa, il campo della prevenzione. Infatti, molti sono gli ambiti, molti sono comunque gli interventi a livello preventivo. Pensiamo, per esempio, alle scuole, dove ci sono i nostri giovani, quindi interventi a livello di disturbi alimentari, interventi a livello anche di educazione sessuale, interventi a livello di bullismo. Quindi, questi sono tantissimi ambiti. Lei lavora però anche in un ambito sessuale. Che cosa fa di preciso? Allora, il consulente sessuale è una figura sicuramente nuova in Italia, emergente, mentre invece nel resto del paese è comunque già molto più diffusa. Il consulente sessuale è colui che raccoglie e indirizza la domanda sessologica. Nel senso, non si tratta di una professione assessante o qualcosa di esterno, ma semplicemente di una professionalità acquisita che si va ad aggiungere alle risorse, alle competenze già del terapeuta. La terapia sessuale significa comunque lavorare molto più in profondità, quindi comunque lavorare sulle disfunzioni sessuali. che se sicuramente ci può essere una buona parte che riguardano naturalmente disturbi fisici, mi viene da pensare al risultato di interventi chirurgici oppure come effetti collaterali, di medicinali, sicuramente c'è una buona parte che è comunque dovuta ai disturbi psicologici. Pensiamo per esempio a relazioni difficili, pensiamo per esempio all'ansia da prestazione, quindi tutte situazioni che possono essere dovute a educazioni per esempio molto rigide. e naturalmente non è neppure da escludere che poi un disturbo a livello comunque di relazione si rifletta poi a livello sessuale. Il bello o il brutto della psicologia è che noi non lavoriamo sull'organo malato, ma in realtà è un lavorare a tutto tondo. A differenza del medico che lavora direttamente comunque sulla disfunzione, naturalmente quella disfunzione poi riguarda proprio tutta la vita di coppia. Per questo nella terapia sessuale spesso si richiede alla presenza della coppia durante la quale poi vengono date durante la terapia sessuale una serie di mansioni che poi la coppia svolgerà a casa con l'obiettivo di aumentare la comunicazione e di creare comunque nuove abitudini. Un'ultima precisazione, dottoressa. Psicologo o psicoterapeuta? Chi sono e in realtà che cosa fanno? Allora, questa è una grande confusione che la gente comunque si porta dietro insieme a tutte le altre. Lo psicologo è laureato in psicologia che ha fatto l'esame di Stato, quindi comunque parliamo di cinque anni più un anno di esame di Stato, di preparazione all'esame di Stato. Può svolgere un lavoro di consulenza, mentre invece lo psicoterapeuta ha il laureato in psicologia, l'esame di Stato, è una scuola di specializzazione di quattro anni, quindi comunque riconosciuta anche qui dallo Stato e quindi comunque può lavorare sicuramente più in profondità e con terapie molto più lunghe.